Il sito si presenta con un layout pulito e facile da navigare. Le sezioni sono ben organizzate rendendo semplice trovare le informazioni cercate. Famiglia Cristiana offre una vasta gamma di contenuti, inclusi articoli, notizie, video e podcast, coprendo una varietà di argomenti legati alla fede e alla famiglia. Il design grafico del sito è visivamente attraente con l'uso di immagini di qualità e una scelta di colori appropriata. Il resto delle info nell'info box di questo video.